La digitalizzazione delle infrastrutture, quanto può contribuire alla rinascita del sud, del meridione? Diciamo che la digitalizzazione delle infrastrutture, più che altro la digitalizzazione dell'economia è il risultato al quale tende questa infrastrutturazione del paese. Abbiamo visto che in questo aspetto i ritorni degli investimenti sono molto più veloci rispetto a quelli dell'economia tradizionale, abbiamo visto che le dimensioni dei ritorni sono molto più alte, la velocità è molto più alta e questo significa che se c'è differenza la differenza probabilmente non verrà colmata, ma quando si parte in una direzione di sviluppo quantomeno ci si troverà tra un po' di tempo in una situazione totalmente diversa da quella che c'è. Poi sta al paese, alle imprese e alla pubblica amministrazione saper crescere di più, ma la tecnologia, la trasformazione dell'economia da economia tradizionale a digitale darà questo impulso al paese.